E' arrivato il mio padre. Posso parlargli? No. Prima dovete parlare con me. Sedetevi qua, forza. Quest'uomo, lo conoscete? Vi ho chiesto se lo conoscete. Di vista. Va bene. Magari. Sì, un po'. Bene. Adesso vado a interrogare il vostro complice. Ma che complice? Noi con quello non abbiamo niente a che fare. Noi siamo un'altra banda. Ah, allora siete una banda. No, che banda? Noi giocavamo. A fare le rapine. Sì, cioè, no. Va bene. Adesso vado a parlare con lui. E poi faremo un bel discorso. Sì. 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 Sì.